La terza puntata del serale di Amici 14 edizione 2015, vedi come ospiti due nomi illustri della musica pop italiana, Neck e Gianna Nannini. Entrambi reduci dal festival di Sanremo, il primo come cantante in gara appiazzatosi al secondo posto dietro il volo e la Toscana di Siena invece come ospite della Kermes Canora Liguri. Neck si presenta ad Amici 14 con un brano, Fatti Avanti Amore, che sta ottenendo un buon successo, canzone orecchiabile che rispecca appieno lo stile musicale di arrangiamento che ha portato Neck ad importanti affermazioni nelle classifiche non solo in Italia. Per questa puntata del serale di Amici si attendeva la presenza di Carlo Conti, sostituito poi da Checco Silvestre, leader dei Modà, per il mancato accordo tra Rai e Mediaset. Ricordiamo che Carlo Conti ha condotto lo scorso festival di Sanremo edizione 2015. Maria De Filippi si avvale dei giurati fissi che sono Sabrina Ferilli e Francesco Renga, mentre Elisa ed Emma Marrone, ricordiamo, dirigono rispettivamente la squadra blu e quella bianca. Occhi puntati anche sui dati Audi Tell che nella seconda puntata hanno avuto un naturale calo.